Stefano De Martino inviato all'isola, le ultime parole di Maria De Filippi Stefano De Martino inviato all'isola dei famosi, il saluto prima di lasciare amici. Stefano De Martino ha salutato amici il 16 ottobre durante la diretta, prima di approdare all'isola dei famosi. A dargli questo spazio ci ha pensato Maria De Filippi, la quale ha chiamato il ballerino ed Elena Damario in studio. I due si sono presentati durante la conclusione della puntata. La conduttrice ci ha tenuto a permettere a Stefano di avere uno spazio per salutare il talent. Infatti, sappiamo che De Martino è il nuovo inviato dell'isola. Nei prossimi mesi, il ballerino professionista rivestirà questo importante ruolo, partendo per l'Honduras. Stefano prende così il posto di Bettarini, che durante la scorsa edizione ha rappresentato l'inviato speciale dell'isola. La De Filippi non poteva, dunque, non permettere al ballerino di effettuare un saluto per tutti i suoi fan. Il pubblico ha apprezzato molto il gesto della conduttrice, anche perché Stefano ha ballato con Elena. I due sono riusciti ad emozionare tutti e i social hanno iniziato a riempirsi di commenti legati alla loro esibizione. Maria De Filippi commuove tutti con il saluto di Stefano De Martino. Il pubblico è commosso e su Twitter non mancano i molteplici commenti di emozione per l'esibizione di Stefano ed Elena. I due ballerini hanno danzato sulle note di Piccolanima, di Ermal Meta ed Elisa. I telespettatori hanno molto attrezzato, anche perché sia Elena che Stefano sono molto amati sin dal loro primo esordio nella scuola più famosa d'Italia. De Martino è da anni una presenza fissa all'interno del talento e Maria De Filippi ci ha tenuto a fargli fare un adeguato saluto. La conduttrice ha rivelato di voler regalare questo momento a Stefano nel migliore dei modi, ovvero facendolo ballare. Sulle note di Piccolanima, ti salutiamo e in bocca al lupo per la tua isola, è il messaggio di augurio per De Martino. Stefano De Martino inviato all'Isola dei Famosi, il pubblico approva. Stefano è pronto per intraprendere una nuova esperienza. La presenza del ballerino nel reality è molto attesa dal pubblico, che sui social dimostra la sua felicità nel poterlo vedere ogni settimana in diretta. Sicuramente non appena finirà questa esperienza, Stefano tornerà ancora a ballare per amici.